Bentornati all'ennesima puntata di Pordenone Sport, all'ombra come solito del nostro inno eravamo quattro amici al bar e i quattro amici di oggi ovviamente non potevamo questa volta non richiamare al nostro bar l'avvocato Maurizio Mazzarella, bentornato, adesso però basta con le critiche perché è tornato Fabio Rossitto e quindi basta con le critiche? Le critiche sono sempre costruttive le mie perché poi i fatti mi hanno dato... Ma che poi Re Mauro si arrabbia? No, vabbè, ma ha fatto quello che pensavo io di fare, cioè di sfoltire la rosa e di prendere tre o quattro giocatori validi Cosa che a gennaio ha fatto Ecco, sei partito già con il piede giusto L'altro amico è sempre quello, Giuseppe Palomba Buonasera Ecco, e poi ci sono io chiaramente, il quarto sei tu che ci stai guardando da casa, come al solito Qui oggi parleremo ovviamente dell'argomento del giorno, non può essere che così Il ritorno di Fabio Rossitto per la terza volta alla guida del Pordenone Un ritorno che è arrivato proprio con il botto Un successo per 3 a 2 al Barbetti di Gubbio Dopo che il Pordenone era andato in vantaggio con un gol di Ciuria Aveva subito la rimonta e il sorpasso da parte del Gubbio Ma ha avuto la forza di reagire, la forza d'animo e di carattere Quella di colui che noi chiamiamo da sempre il crociato, Fabio Rossitto Per ribaltare ancora una volta il risultato con le reti di Nocciolini e Formiconi E quindi portare a casa un 3 a 2 e soprattutto tre punti fondamentali Maurizio Sì, perché un'eventuale sconfitta sarebbe stato un incubo per il Pordenone Sarebbe piombato in una zona di depressione totale di classifica E sarebbe di notte ancora più difficile la trasferta di Ravenna Adesso penso che sia più facile giocare a Ravenna che a Gubbio Almeno da come ricordo i tempi io dal punto di vista ambientale La squadra, il Gubbio, ritengo in questo momento più forte da Ravenna Concentrazione, dico sempre, umiltà e gruppo E il Pordenone non può sbagliare perché i giocatori per vincere ci sono Tanto abbiamo fatto che siamo riusciti a riportare Ci attribuiamo meriti che probabilmente non abbiamo Però insomma noi siamo felici perché abbiamo sempre spinto per la soluzione Rossitto Sì, sì, è vero Infatti hai titolato anche tu È già un ramarro targato Rossitto Noi siamo contenti innanzitutto di questo Anche perché conosciamo le doti del mister E si è visto già che è un Pordenone diverso Un Pordenone che in campo lotta ha saputo rimontare Che ha una carica, che ha creduto di poter fare risultato su un campo Come ha detto l'avvocato, abbastanza difficile Io sono fiducioso anche per la prossima trasferta di Ravenna Perché effettivamente, perdonami la metafora Però il ramarro sta mutando, sta mutando pelle davvero questa volta Certamente, però tutto questo entusiasmo e questa sicurezza Anche voi due adesso avete espresso grande ottimismo per la prossima trasferta a Ravenna Ma non è un po' pericolosa, anche l'entusiasmo che si sta creando Contagiante, che si sta creando anche intorno al De Marchi Dove sono tornati i tifosi che fino alla scorsa settimana erano spariti Ma tutta questa sicurezza, questo ottimismo e questo entusiasmo Non può essere pericoloso Tu che hai giocato e che hai sentito fasi di entusiasmo e di depressione Ma di fatti io ho parlato prima di concentrazione e umiltà E soprattutto spirito di gruppo Se ci sono queste tre componenti Naturalmente Rossito non ha la bacchetta magica Perché la condizione fisica bisogna recuperarla al meglio E ci vogliono sempre quei 15-20 giorni minimo per recuperare la condizione fisica Ma quello che Rossito deve fare prima di tutto È entrare nella testa dei giocatori E cancellare quella partita di San Siro con l'Inter Che a mio avviso è stata devastante anche per Colucci Diventa difficile Ma forse per Colucci è stata positiva dal punto di vista della carriera No, della carriera sicuramente perché andare a far 0-0 con la capolista di Serie A Resterà nel tempo Però ha pagato psicologicamente e fisicamente poi la squadra Di questo sono sicuro il mille per mille E naturalmente io ho fatto una provocazione dicendo a Fabio Cioè a Fabio scrivendo appunto su tutto Pordenone Li porterei a fare qualche amichevole in prima categoria o in promozione In modo che dimentichino tutti i fasti del mese di novembre e dicembre Ricordiamoci l'Alessandria Che per me era la squadra più forte due anni fa E è arrivata in semifinale col Milan Grandi prestazioni E poi alla fine è arrivata a quarta in Cassifia Ed è la squadra che doveva vincere il campionato a Mambas Quindi l'esperienza Cagliari e Inter Io non sarei andato neanche a giocare Avrei messo le riserve per dire contro il Cagliari Come ha fatto il Cagliari Proprio perché se l'obiettivo della società era il campionato Io avrei puntato tutto sul campionato Il Napoli secondo me Sarri ha fatto bene ieri Anzi mercoledì perché ha messo in campo delle seconde linee In una Coppa che al Napoli non interessa E sta giocandosi tutte le carte sul campionato E Pordenone doveva fare uguale E il campionato è la cosa più importante Non la Coppa Italia Concordi con il suggerimento dell'avvocato Di dimenticare i fasti dell'erba verde dei San Siro E arrivare un po' nel fango di periferia tipo quello di Porcia Allora premessa che la capolista del campionato Non è l'Inter ma è il Napoli avvocato Era l'Inter È il Napoli Io concordo con sacrificio e umiltà Ma i risultati aiutano a vincere E Fabio sappiamo che è un gran motivatore Dai risultati poi Porta beneficio a tutto l'ambiente Per cui Bene che abbia iniziato con una vittoria Vedrete che anche a Ravenna Ci sarà altrettanto un risultato importante per il Pordenone Mi meraviglia che faccia queste affermazioni Lui che è napoletano Non scarammantico Incrociamo le dita Noi nascondiamo le mani sotto il tavolo Perché di questi Ritornando a quello che ha detto Di ritornare sui campi di promozione eccellenza Prima categoria Benvenga un amichevole Se qualora Mauro voglia Voglia fare un amichevole con una squadra di una categoria inferiore Perché no? Porcia è qui Siamo a disposizione E si può fare tranquillamente Tornando a Colucci Dicevo che può essere utile per la sua carriera Anche perché corre voce Che ci sia già un contatto con Gianpaolo Per riportarlo Per portarlo Riportarlo alla sua corte Questa volta alla Sampdoria E però sempre dedicandosi alle giovanili Dove lui ha fatto benissimo Non prime squadre No perché sia a Reggio Che a Pordenone Fino a questo momento Le cose non gli sono andato bene Però Ritornando magari In una Serie A prestigiosa Un settore giovanile Come quello della Sampdoria Potrebbe essere un passo giusto per lui No sicuramente Colucci ha avuto Ripeto La sfortuna Di avere questa Coppa Italia Perché sono sicuro Che sicuramente Sono sicuro Che il Pordenone Non avrebbe perso tutte quelle partite Dopo l'esperienza di San Siro È un buon allenatore Ha avuto determinate Anche situazioni sfavorevoli Ricordiamo che secondo me La squadra Ante gennaio Non era una squadra Che poteva essere prima in classifica Perché aveva due o tre lacune Che adesso sono state colmate E che tu avevi sottolineato Sottolineato a suo tempo Non l'abbia detto No E che avevo sottolineato Facendo scatenare Mauro Lovisia Contro di me Perché magari sembrava Che facessi Disfattismo Quando invece Avevo solo visto Che quella squadra Non poteva arrivare prima E siccome solo una Va in Serie B Subito L'avevo detto Adesso la squadra Mi sembra un po' più compatta Mi sembra Che abbia più solidità Nei giocatori Che entrano in campo E se Rossitto Punta su quegli Otto uomini Sempre Sarà difficile perdere Potrei pareggiare Ma perdere non è facile A meno che Io reputo A livello del Pordenone La Reggiana Che era partita malissimo Ma che ormai È quasi seconda in classifica Il Ferralpi Salò E il Padova Quindi sono quelle Le tre squadre Che io reputo Il Padova ormai Possiamo salutarla Già tutti i due I piedi in B Ma io sentivo Tele Padova ieri Si preoccupano La Reggiana Nonostante i 12 punti Di vantaggio Perché? Perché secondo me Non è poi neanche Questa grandissima Cioè non è il Cittadella Non è il Parma Non è il Venezia Non è l'Alessandria Due anni fa È una buona squadra Che è un qualcosa In più del Pordona Appena appena Di solidità Ma non mi sembra Una squadrona Allora L'importante È che Fabio Abbia ritrovato Subito I gol Degli attaccanti Giuria Che aveva fatto Cinque gol Nelle primissime giornate Di campionato Era sparito Adesso Finalmente Appena arrivato Fabio È tornato Al gol È anche Un ottimo gol Io Credo che lui Abbia indovinato subito La mossa vincente Portare Nocciolini Al centro dell'attacco Perché Nocciolini È un giocatore Che in categoria Ritengo un lusso Ce l'ha fatto vedere Già l'anno scorso A Parma Che con Calaio Hanno fatto disastri E Ciurria Non lo scopriamo noi Ha giocato in Serie B A Spezia Ha dimostrato comunque Un valore Da esterno importante Peccato Martignaco Perché secondo me Martignaco Con Rossitto Avrebbe fatto altrettanto bene Questo è Un piccolo rammarico E va bene Intanto parliamo Di quelli che abbiamo Anche se Martignaco Sta facendo benissimo Anche con Zironelli A Mestre Comunque dicevo Il gol primo di Ciurria Con un rilancio Della difesa Stop di petto Limite dell'area E calciato di sinistro Al volo Sono immagini Che noi stiamo Vedendo Una cosa Fantastica Appunto Ritornare Ritrovare Quello spirito Da rifinitore E da goleador Che Ciurria Ha sempre avuto Dario io credo Che i giocatori Questa settimana Abbiano avuto Anche la testa Un attimino Più serena Anche perché Voci di corridoio Dicevano Che c'era addirittura Qualcuno Che la notte Non dormiva più Nella gestione Colucci Per cui quando Un giocatore Mentalmente libero Io credo che in campo Riesce ad esprimersi Se non al 100% Ma quantomeno All'80% Al posto Del 50% E questo è Grande merito Di Fabio Che ha saputo Rassenerenare L'ambiente E come mi diceva Le prime cose Che ho detto Io ho detto A tutti i ragazzi Voi siete forti Dovete solo dimostrarlo E poi Una mossa All'inizio Quella di riportare Nocciolini Che aveva segnato Tre gol Al Bottecchia Proprio in quel famoso Pordenone Parma 2 a 4 Tre gol In 26 minuti Oltre a tutto Tra l'altro No Nocciolini Che ha segnato Il suo primo gol E anche questo È stato un gol Propiziato da una discesa Sulla fascia destra Da Ciurria Che ha messo al centro Magnaghi Ha aperto le gambe Ha fatto velo Praticamente La palla Se l'è ritrovata Fra i piedi Nocciolini Che non ha mancato E ha segnato Il suo primo gol In nero verde Anche se poi Lui ha fatto un po' Di ironia Dicendo Ho fatto il mio primo gol In nero verde Vestendo bianco rosso Perché la maglia La casacca Era tra casacca Da trasferta Io penso che Nocciolini Sia un ottimo Giocatore Di serie C E quindi Sicuramente Un apporto Lo darà Il Pordenone In queste ultime Dieci partite Ma c'è un giocatore Che potrebbe essere La cosiddetta Cilegina Sulla torta Io non so Quali sono le sue condizioni Reputo Berrettoni Se sta bene Uno che ti fa vincere Le partite Da solo Con due o tre colpi Suoi La partita la vinci Potrebbe Restare in vita Fino ai playoff E potrebbe essere Un'arma in più Del Pordenone Nei playoff Perché Vanno dieci squadre Ai playoff Quindi Io penso Che sicuramente Il Pordenone Ci sarà Tra queste dieci Nove Sarebbe fantastico Che Berrettoni Riprendesse Un anno dopo Esattamente Da dove ha lasciato Perché L'assenza di Berrettoni Probabilmente Ci è costata qualcosa Nei playoff Della scorsa stagione Se lui Ritrovasse la forma Proprio per i playoff Di questa stagione Potrebbe prendersi La sua rivincita E dare la rivincita Anche All'intera squadra Ma di fatto Io Nella mia ipotesi Di formazione Lo reputo Nel caso In cui stia bene E sia in grado Di scendere in campo Un giocatore Essenziale Per il gioco Del Pordenone Come lo sono Burrai E Misuracca E io dico I quattro La difesa Che sono scesi In campo ieri Non me ne voglio Annunzella Annunzella Ad esempio In certe partite Potrebbe Giocando 4-4-2 Potrebbe O 4-4-1-1 Potrebbe fare L'esterno sinistro Perché è molto bravo Da metà campo in su Con Di Agostini Si alternerebbe In quella fascia Dall'altra parte Hai la possibilità Di avere altri giocatori Sulla fascia destra E quindi potrebbe essere Una soluzione Specie fuori casa Contro squadre Di pari valore Potrebbe essere interessante In questa Diciamo L'avvocato Continua a dare suggerimenti Prima Colucci Adesso Rossini Ma conoscendo il mister Io credo che lui Si affiderà A questi uomini Inizialmente E poi Alternerà le varie soluzioni Nei ruoli Dove magari Si sente un attimino Meno insicuro Contando però Di recuperare Berrettoni Perché comunque Sarà l'ago della bilancia Qualora si presentassero I playoff Certamente Comunque In attesa Invece che si risvegliasse Come è successo Appunto a Gubbio Gli attaccanti E il Pordenone È vissuto Anzi è sopravvissuto Diciamo Sui gol dei difensori Bassoli prima Formiconi Addirittura due gol Non li aveva mai fatti In stagione Li ha fatti Li ha fatti A Pordenone Quello di ieri Di ieri Per me è sempre ieri Quello a Gubbio Fantastico Ancora una volta Con un colpo di testa Quindi Formiconi Sulla fascia destra È riuscito Per certi versi A far dimenticare I suoi predecessori O no? Sì Semenzato Nelle ultime 15 partite L'anno scorso Era devastante Su quella fascia Era partito male Nelle prime 7-8 partite Anche perché era fuori ruolo Dalle volte giocava a sinistra Le ultime 15 partite È stato sempre uno dei migliori In campo Formiconi è forte Però A me piace Perché uno di quei giocatori Che quando deve dare la legnata La dà Quando viene su Sa come mettere la palla Quindi È un ottimo sostituto Di Semenzato In più Ha già anche fatto due gol E quindi Da un terzino destro Che fa due gol Non si può Pretendere di più I due centrali Non sono in discussione Stefani e Bassoli Manca Marchi Ecco Marchi Se ci fosse Marchi O Ingegneri Beh Ingegneri Sarebbe stato titolare Sicuramente E Bassoli magari In panchina Ecco Manca ancora Se si fa male Uno dei due centrali Potrebbe esserci Qualche problemino Parodi non è male È un ragazzo Che è in crescita È forte di testa Un gran fisico Però Gli manca ancora qualcosa Sto parlando Per squadra Che vuole puntare Andare in B Naturalmente Ecco Il colmo È stato Ritornando alla partita Di Gubbio Che Con il rientro Di Rossito Ad è stato Grandissimo interesse Fra i tifosi Il colmo È stato Che proprio In occasione Di quella partita Dell'esordio Di Rossito Con tutti quelli Che stavano aspettando Di vedere La gara Al di là Dei 23 Che sono andati Fino a Gubbio E questi Meritano assolutamente Ancora una volta Rispetto E insomma Più che rispetto Un grandissimo Applauso Ma tanti erano Anche quelli Che erano andati Al De Marchi Nella sala conferenze Davanti al Maxi Schermo Messo a disposizione Della società E purtroppo È saltato Il collegamento Con Eleven Sport E pertanto Non si è potuta Vedere la gara Sono rimasti Comunque lì Perché Sul Maxi Schermo Mandavano Gli aggiornamenti Di Michelin Direttamente Dal Barbetti Dal Barbetti Tre A due I meriti Sono anche Della società A questo punto Perché Riportare Rossitto Ricompattarli Con Cristante Con Toffolo È comunque Dare un segno Di appartenenza Importante Non solo Come territorio I tifosi Vanno Sulle ali Dell'entusiasmo Per cui È giusto Che sia così È bello Ricordiamoci Di tre anni fa Tutto L'entusiasmo E tutto il movimento Che c'era Attorno al Pordenone Nella gestione Nella seconda gestione Rossitto Bello che Ma tu hai detto Che vanno e vengono A seconda dei risultati Quella volta lì Quella volta lì Nonostante La sconfitta Nel Nel play out Con il Monza Rossitto Era rimasto Idolo Dei tifosi Pordenonesi E a rientro A rientro Lo avevano fermato In autogrill Insieme a tutti I giocatori Avevano fatto scendere I giocatori Dal pullman E avevano cantato Insieme Dopo una sconfitta Pesante Ho fatto io Quelle riprese Dario Anzi Lanceremo anche Il servizio Dopo Su questo Su questo Rientro da Monza Anzi Possiamo farlo vedere Subito E poi Alla fine Rientriamo E continuiamo A parlarne Questo è quello che dico io Essere carismatici Quando anche Nel momento Fantastico Generoso Ed è sempre disponibile con tutti Certamente E poi il fatto che sia affiancato adesso da Filippo Cristante Un'altra eccellenza del territorio Che è riuscito a calcare anche i campi importanti da giocatore Poi era stato messo a tecnico della Berretti Adesso è stato promosso E poi anche Che sia rimasto Andrea Troffolo Perché ricordiamo Che nella gestione Tedino Era Andrea Toffolo Che curava la parte difensiva Cioè la gestione della difesa E poi è arrivato il mago della difesa Colucci E abbiamo visto che abbiamo preso più gol Che partite Che partite No Che partite Giocate Avere insieme Rossitto Cristante E Toffolo Io penso che sia un altro Valore del territorio Che possa coagulare Intorno al Pordenone Proprio Tutta la gente di Pordenone Anche quelli che Non erano abituati a venire al Bottecchia Stai parlando Manca l'avvocato Ci manca l'avvocato No Stai parlando con uno Che a suo tempo Sognava 11 pordenonesi In serie C Ai miei tempi eravamo in otto Non solo Ma l'altro giorno con Fioretti Ricordavamo anche i sette presidenti Per una società Con i presidenti delle società Dilettantistiche In questo caso sarebbe anche Palomba Che ad alternarsi Ad alternarsi alla presidenza Un anno dopo l'altro Del Pordenone E quindi a costruire il gruppo Te l'immagini Palomba Presidente del Pordenone Mi vengono i brividi Massimo Porterebbe un pezzo di Napoli E di folklore napoletano Di inventiva E di allegria sicuramente Nel Pordenone Ma appunto Parli con uno Che giocavamo Quando giocavamo qua I famosi Da Pieve Canzi Catto Cagnin Che è poi Dioderzo Qua vicino No Canziano è venuto dopo Poi io che ero di qua Andreolini E via dicendo I ragazzi che sono morti Mantellato I due di Cordenone Che farò letto Quindi Perfetto Turin Che era anche Il Turo Eravamo 8 su 11 E quindi In Serie C Per quanto riguarda Rossito Volevo solo fare Una precisazione Perché tanti Quando dicevo Io vedrei bene Rossito Magari qualcuno Storceva il naso Cioè Di nuovo Rossito Volevo solo ricordare Questo Che ha fatto 300 partite In Serie A Con Udinese Napoli E Fiorentina Una presenza In nazionale Ha vinto un campionato Europeo Under 21 In Francia Con la nazionale Nove presenze In nazionale Under 21 Insomma Qualcosa di calcio Uno che fa Che a questo pedigree Dovrebbe Dovrebbe Saperne Non solo Non solo Volevo ricordare Che a Cremona Hanno fatto Un articolo Perché io L'ho visto A suo tempo Dove si diceva Che l'allenatore Che in rapporto Alle partite Aveva fatto Più punti Si chiamava Fabio Rossito Quindi Insomma Cos'è Se invece Che di Pordenone Fosse stato Di Padova Ah si Rossito Come di Pordenone Dobbiamo Deprezzare Quello che abbiamo In casa E che secondo me È sbagliato Ecco Ma anche Mauro Lovisa Che dopo La seconda esperienza Di Fabio Sembrava che avesse Chiuso Effettivamente La porta Proprio Nei giorni scorsi Ha dichiarato Per riprendersi Un pochettino Dicendo Ma Fabio È maturato Moltissimo E sicuramente Gli hanno fatto bene Le esperienze A Cremona E Palermo No ma Oltre a quello Quando due Giocano insieme Nelle vecchie glorie È chiaro Che restano amici Per sempre Non può essere Diversamente Eh va bene Tu non hai mai giocato Nelle vecchie glorie Dario Io sono ancora giovane Purtroppo Quindi Mi accontento ancora Di fare gli amatori Capito che è meglio Va bene Ragazzi Mi pare che abbiamo Incensato abbastanza Sia il Pordenone Che Fabio Rossito Facciamo un passaggio Veloce Per quanto riguarda La Serie C Anche alle altre regionali Con una Triestina Che è sempre Esaltata Dall'Avvocato Mazzarella In virtù del suo Stadio Del Rocco E del pubblico Di Trieste Che mi pare Che nonostante Le dimissioni di Sannino Stia tenendo botta Sì Il sogno È la Triestina Io Mi ero permesso Di consigliare A qualche Pordenonese Di comprare Infatti Questo è diventato Antipatico Per questo I tifosi del Pordenone Vabbè Ma se uno deve Far calcio A livello professionistico Fra Trieste E Pordenone Nonostante Non abbia mai indossato La maglia triestina Mentre quella dell'Udinese Sì E del Pordenone Anche Udine È in Serie A Quindi La società Da prendere Era nella Triestina Era in Serie D Era in una categoria Che non ha senso Per Trieste Portavi la squadra Del Pordenone A Trieste E avevi 4-5 Continua a farsi Continua a farsi odiare Dai tifosi di Pordenone Sto parlando al tempo Adesso ormai no 4-5 mila Spettatori Subito Perché se sei primo In Serie D A Trieste Fai dai 4-5 6 mila Come mai Secondo te Questo cambio In panchina A Trieste Ma È successo sicuramente Qualcosa Dal punto Che non c'entra Col calcio Perché San Nino Aveva un contratto Di due anni Rinunciare Un anno e mezzo Non l'ho mai visto Fare nel calcio Quindi Qualcosa è successo Forse fra la dirigenza Non lo so So solo che La Triestina L'altro ieri ha vinto 3-1 Quindi questo cambio Di allenatore Non è stato Diciamo Devastante per la squadra Ma anzi La squadra ha reagito E ha vinto 3-1 Tanto è vero Che si è risvegliato Anche il nostro Ex-Bomber Arma Arma e Goli Ha sempre fatti E comunque È una squadra Che non ha il valore Certamente Della Rosa Del Pordenone Però ha quei 6-7 Giocatori in campo Che possono far bene Difatti Hanno 31 punti Va bene Cosa dici Scendiamo un attimo Di Di categoria Saltiamo a piepari La Serie D Per andare Ai campionati Regionali Cosa hai da rilevare? È da rilevare Che il Chions Non ha vinto Ha pareggiato in casa Con la Gemonese La Gemonese Sesta in classifica Comunque È un risultato importante Il Lumignac Ha accorciato Si è portato A 4 punti Bene il Cordenons Che ha vinto anche ieri E si Staziato intorno A sesto Settimo posto Fontana Fredda Un pareggio Che però Muove la classifica Ma non lo riporta Fuori dalla zona Play Il Fontana Fredda È abbastanza sotto Il Pasiano Ha rischiato Il colpaccio Con il San Luigi Vincitore di Coppa Ha perso Negli ultimi minuti Purtroppo Vuoi parlare Anche della promozione? Parliamo anche Della promozione Hai visto con quale Rassegnazione? Da dove partiamo? Da Porcia? No Partiamo Dalle due Prima in classifica Il Flaibano E il Fiume Che continuano a vincere Il Flaibano Ha battuto Il nostro Porcia Ieri 3 a 1 Bene Il tuo Porcia Non il nostro Noi non vogliamo niente Avere a che fare Sto scherzando Ha battuto Il mio Porcia Nonostante una partita Ancora di salutare I nostri amici Che ci stanno seguendo Da casa E in particolare Tu che ci stai guardando Da casa Vorrei un breve pronostico Da parte vostra Appunto Della partita Di Ravenna E allargarci Anche alla partita Della successiva Della domenica successiva Al Bottecchia Con l'Albino Leffe Che sarà proprio L'avversario Che Di quel famoso 1 a 0 Con gol Di Maracchi Con l'urlo Sempre con Rossitto in panchina Con l'urlo Del Bottecchia Quella volta Scremito Che si sentì Fino in piazzetta Cavour Aggiungo anche La partita Dove si è registrato Il record Di spettatori Al Bottecchia Esatto Allora dai Fra Ravenna E La partita in casa Con l'Albino Leffe Punti Io dico che Porta via 6 punti Rossitto Incrociamo le dite Ma io dico che 4 punti bastano Cioè Un pareggio fuori Una vittoria Con l'Albino Leffe In casa Sono due risultati Alla portata Del Pordenone 4 punti bastano Perché da 33 Si passa a 37 E forse Si è già Quinti In classifica Senti Abbiamo spinto Tanto per Rossitto Proprio attraverso Questo programma La panchina Del Pordenone Cominciamo a spingere Per il rientro Di Mazzarella Come consulente Tecnico Ma mi sono già Arrivate voci Che lui Stia andando Verso i Templari Dalle parti di là Sanquirino A fare cosa So che So che fa Il consigliere Non so Però Sanquirino No ma c'è Giuseppe Beppi Del PENI Che è mio amico Ma no Consigliere no Ogni tanto Mi interessa Non so neanche In classifica L'hai messo in difficoltà No no Non so neanche Cos'è in classifica Quindi figurati Ho saputo Che mi sono male Povero Beppi Io spero che si salvi Perché ci mette Sempre tanta passione Nel calcio No Invece Verso i Balcani Di nuovo Probabilmente Come procuratore Di giocatori Procacciatore No 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 Per la società Sempre Non per i giocatori Per la società Quale Eh dopo te lo dico Più avanti Verso primavera Verso primavera No no In questo momento Va bene È una squadra Che ero già stato 13 anni fa E avevo rinunciato Perché stavo facendo L'avvocato In quel momento E quindi Lasciamo questo scoop Per una delle prossime puntate Finisce qui Pordenone Sport Eravamo quattro amici al bar L'avvocato Maurizio Mazzarella Il presidente del Porcia Consulente E opinionista Chi più ne ha Più ne metta Giuseppe Palomba Immigrato In zona nostra E ovviamente Dario Perosa Saluti Alla prossima Restate sempre con noi Che qui Se non altro Vi divertite Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.